Sono le politiche di austerity le vere responsabili della crisi che ha colpito tutti i paesi europei. A sostenerlo è Luigi Campiglio, docente universitario, che è intervenuto alla Cattolica di Piacenza esponendo i dati della sua ricerca sulla recessione europea dal 2008 al 2013. La causa fondamentale è stata l'aumento della pressione fiscale unita alla riduzione del reddito disponibile alla sostituzione del tasso di cambio con la svalutazione interna, che significa in concreto il congelamento di tutti i redditi, ha spiegato Campiglio. Le politiche di austerity non hanno migliorato la situazione, ha detto, ma anzi hanno avuto un risultato. Per l'Italia è stato quello di avere un disavanzo pubblico del 3% nell'ultimo anno. Se non si cresce e crescendo non si riduce anche la disoccupazione, ovviamente, e soprattutto la disoccupazione, noi non riusciamo a risolvere né un problema centrale, vitale del paese, ma nemmeno riusciamo a ridurre davvero il rapporto debito-pil.